Wow, potrei abituarmi a una vista del genere. Sì, voglio un castello. Sono un tipo dai sogni semplici. Fai la guardia a questa? Sì. Ma quel giorno cercavo solo un posto in cui scappare. Poi mi ha colpito. Nella torre viveva una ragazza che era lì da tantissimo tempo. Sono disposta a proporti un patto. Un patto? Guarda di qua. Io voglio vedere il mondo. E non solo dalla mia finestra. Prima ho detto, non posso farlo. Poi ho detto, sciogli i tuoi capai. Non riesco a credere di averlo fatto. Sì. Raider! Chi è lui? Uno a cui non piaccia. Supponiamo per ora che io non piaccia a nessuno dei presenti. C'è qualcos'altro che dovrei sapere di te. Ho dei capelli magici che devono essere protetti. E da che? Vogliamo la ragazza dai capelli magici. Me la devo comprare una di queste. Braccia strette. Braccia strette. Gambe larghe. Gambe larghe. Gambe larghe. È da una vita che aspetto questo giorno. E se niente di quello che ho sognato si avverassi... Eccone là! Corri! Sappi almeno che questa è la cosa più strana che io abbia mai fatto! Attento! Sono tanti capelli. Deve essere una giornata no per me. In genere finisce meglio. Va. Vivi il tuo sogno. Lo viverò. Il tuo sogno è una schifezza. Dicevo a lei.